Siamo qua a Milano, marzo 2023, parlando un po' di sicurezza nel trasporto e il livello di sicurezza di un camion è cambiato tanto negli ultimi anni. Prima il proprio autista era responsabile per tutta l'attenzione, oggi il camion riesce a dare una mano importantissima alla persona che sta alla guida del mezzo. Da tanti anni abbiamo introdotto per esempio il cambio automatico, la interfaccia con l'autista si fa di maniera automatica, la frenata d'emergenza, l'ABS, l'ESP, il controllo di distanza, il controllo delle righe, veramente ci stiamo avvicinando un livello di autonomia, per arrivare all'autonomia serve ancora tanto perché c'è la questione legale per esempio che è un debattito che non finisce e non sarà semplice di finire e anche in zona urbana densamente popolata sarebbe impossibile con la tecnologia presente oggi anche con il 5G di avere un veicolo autonomo. Tutta quella ricerca che facciamo verso l'autonomia si applica, si offre nel cambio moderno. Tutti i veicoli venduti da settimane scorse vorrei dire già hanno il nuovo pacchetto di sicurezza dell'Unione Europea, comprendono tra le altre cose la predisposizione per l'alcool lock, per vedere se l'autista ha consumato bevanda alcolica, è la predisposizione, non il lozionale, perché in alcuni paesi, in alcuni settori di trasporto questo è già un obbligo, una realtà. La possibilità di fare aggiornamento di software a distanza per esempio, il radar al lato del camion, il radar riforsato di fronte e anche protezioni anti-hacker perché è una verità, oggi nelle notizie, questa mattina, una grande azienda del settore automotive ha sofferto un attacco hacker, i nostri camion, i nostri autobus riceveranno questa protezione oltre l'attacco cybernetico. Come Scania crediamo che non c'è una unica soluzione per il futuro, quello che immaginiamo è che il futuro sarà compreso di varie opzioni, il biocarburante è un'opzione che non possiamo lasciare dimenticata, la nostra linea di prodotto completa permette l'uso di diversi biocarburanti sia con metano, anche l'HVO in sostituzione al diesel, che è un prodotto che stiamo spingendo tra i nostri clienti, c'è un costo più alto ma il grande vantaggio è che è lo stesso camion, non dobbiamo cambiare i veicoli. L'elettromobilità, siamo pronti, qualcuno può andare a qualche concessionario Scania in Italia oggi a acquistare un trattore elettrico, è vero, costa di più, il costo per chilometro è più alto, il ciclo di vita costa di più, il valore residuale è basso, ma abbiamo questa disponibilità, anche la nostra gamma di ibridi, ibridi plug-in che permette di abbinare il motore endotermico per fare lunga tratta e il motore elettrico per fare una consegna in città per esempio. Siamo credo l'unico produttore europeo che ha un parco importante di idrogeno, abbiamo investito nell'idrogeno da anni, oggi è un prodotto che non è di linea ma possiamo offrire, dobbiamo valutare case by case con i clienti, è una tecnologia che è molto simile a quella dell'elettrico, la differenza è che invece di batteria abbiamo l'idrogeno che purtroppo serve tanta energia per fare l'idrogeno che alla fine diventa il business case fa fatica. Quando parliamo di business case e la giornata di ieri abbiamo discorso questo, è ovvio che il diesel è quello che è più economico al costo a chilometro, tutto quello diverso del diesel c'è un costo aggiuntivo e si fa guardando la sostenibilità. Ricordo anche che il trasporto è responsabile per meno di 30%, 25-20%, dipende se prendiamo tutti i trasporti, il trasporto sul gomme, il trasporto di merci, le macchine, le vetture o no, delle emissioni del CO2 e quindi dobbiamo spingere perché la decarbonizzazione sia fatta non solo nel settore del trasporto dove si sta spingendo tanto ma anche su altri settori perché quello che cerchiamo è di decarbonizzare per ridurre l'effetto serra.